Siamo qui, come vi avevo promesso, per fare l'open chest non jamming. Prima di iniziare, vi volevo dire una cosa, che sotto in descrizione vi lascerò il link del server privato di Clash Royale. Entriamo. Iniziamo ad aprire il baule omaggio. 59 di oro, 2 gemme, 1 sfida infuocata e 8 mortai. Ora apriamo l'altro baule omaggio. 63 di oro, 1 domatore di cinghiale e 8 mortai. Ora apriamo il baule argento. 2 carte, 45 di oro, 7 mortai e 1 torre bombardiera. I mortai per ora ce ne sono usciti assai. Ora apriamo l'altro argento. 2 carte, 43 di oro, 1 torre bombardiera e 7 mortai. Ora apriamo il baule della corona. 5 carte, 385 di oro, 3 gemme, 1 mortaio, 6 goblin lanceri, 39 frecce, 6 torre bombardiera e basta. Poi ora apriamo il baule d'oro. Poi ora apriamo il baule d'oro. 47 di oro, 7 mortai, 9 orda di sgherri, 11 goblin lanceri, 3 estrattori di elisir, 32 tesle, 13 giganti e 3 pecca. Buono, questo video è finito. Ci vediamo alla prossima.